Rieccoci ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Parliamo di cronaca. Sono stati confiscati beni per un milione di euro a tre esponenti mafiosi del Palermitano. Vediamo il servizio. Le attività d'indagine finalizzate all'individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, svolte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Palermo, avevano già portato tra il maggio del 2018 e il giugno del 2022 all'emissione da parte della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, che aveva accolto le richieste della locale Procura della Repubblica di tre provvedimenti di sequestro beni a carico rispettivamente di Francesco Lombardo, Domenico Baglione e Francesco Loiacono. Gli odierni provvedimenti hanno consentito di confiscare, per i primi due irrevocabilmente e per il terzo in primo grado, un ingente patrimonio quantificabile in circa un milione di euro riconducibile a Cosa Nostra. Lombardo era stato tratto in arresto nell'operazione denominata Argo, con l'accusa di aver diretto la famiglia mafiosa di Altavilla Milicia, in particolare per aver coordinato le attività illecite nel settore delle estorsioni alle imprese ed esercizi commerciali della zona, riportando una condanna di primo grado a 12 anni e 8 mesi di reclusione. Il provvedimento di confisca irrevocabile ha riguardato beni per circa 500 mila euro entrati a far parte definitivamente del patrimonio dello Stato. Baglione, invece, era stato tratto in arresto nell'operazione denominata Acocalisse, con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo, Partanna Mondello, in particolare per aver curato la raccolta del pizzo nella zona di competenza, riportando una condanna di primo grado a 9 anni e 4 mesi di reclusione. Il provvedimento di confisca irrevocabile ha riguardato beni del valore complessivo di circa 300 mila euro. L'oiacono, infine, era stato tratto in arresto nell'operazione denominata Talea, con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo San Lorenzo, in particolare per essere stato il mandante istigatore del danneggiamento avvenuto mediante l'incendio di sei autovetture custodite presso la sede della Autocar Service di Partinico, riportando una condanna di primo grado a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Il provvedimento di confisca di primo grado ha riguardato beni del valore complessivo di circa 200 mila euro. Ed ora a Messina, dove sono stati sottoposti a fermo altri sei traghetti della società Caronte & Tourist. Sottoposte a fermo altre sei navi della flotta Caronte & Tourist che servono le isole Eolie e Ustica. Il 6 giugno scorso tre traghetti e fondi incontanti erano stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo alla compagnia di navigazione Caronte & Tourist Isole Minori. I sigilli erano stati apposti a traghetti ritenuti dalla procura di Messina non a norma rispetto ai passeggeri con mobilità ridotta. Adesso ci sarebbero nuove acquisizioni perché per raggiungere la cifra decisa dal GIP di 29 milioni di euro del sequestro le prime non erano sufficienti. Il sequestro preventivo disposto ai primi di giugno era in pratica il seguito dell'operazione Alto Mare che già nel 2020 aveva portato al sequestro di altre tre navi della società messinese. Sotto esame in questa inchiesta c'è la gara regionale da 44 milioni del 2016 e ancora vigente. In base a quanto accertato dalla finanza le unità navali non sarebbero idonee al trasporto di disabili, anziani, donne in gravidanza, persone con passeggini al seguito e quindi con mobilità ridotta. Nonostante questo fosse un requisito garantito dalla società in occasione della partecipazione al bando regionale per le linee Milazzo-Eolie e Palermo-Ustica. Adesso la Guardia di Finanza sta procedendo al fermo di altre sei navi. A Milazzo, sempre nel messinese, un 19enne è stato invece arrestato dalla polizia e condotto in carcere. Il giovane infatti continuava a maltrattare la compagna. I poliziotti del commissariato di Milazzo hanno dato esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal GIP di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 19enne di Barcellona Pozzo di Gotto, soggetto già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti in materia di stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio. Il giovane è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti commessi nei confronti della compagna, con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona minorenne nel territorio di Merì e Milazzo. La misura scaturisce da serrate indagini espletate dal personale del commissariato, che hanno permesso di acclarare numerose e reterate condotte vessatorie consistenti in minacce, ingiurie e aggressioni fisiche e verbali. Nello specifico, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata aggredita fisicamente con calci e pugni anche per futili motivi, pure quando si trovava in stato interessante. Nel corso dell'attività espletata sono state accertate anche limitazioni negli spostamenti della vittima, la quale in certe occasioni sarebbe stata trattenuta in casa e avrebbe subito la sottrazione del telefono per evitare ogni contatto con altre persone. Inoltre, in diverse occasioni, il giovane l'avrebbe pure minacciata, costringendola a vivere seri momenti di paura. Dopo le formalità di rito, gli agenti del commissariato di Milazzo hanno pertanto condotto la 19enne presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. Cambiamo argomento, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti. In questo caso la notizia arriva da Vittoria, nel Ragusano, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno beccato e tratto in arresto un pusher. Si tratta di un cittadino straniero. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nei giorni scorsi a Vittoria, nell'ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza hanno tratto in arresto uno straniero di 28 anni con precedenti di polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un'attività di pattugliamento, i poliziotti hanno notato uno scambio sospetto tra due individui, facendo presumere una possibile transizione di droga. Di conseguenza, i due soggetti sono stati prontamente bloccati e identificati. A causa della resistenza da parte di uno dei soggetti al momento del controllo, è stata effettuata una perquisizione personale che ha avuto esito positivo. Sono state infatti rinvenute 48 dosi di sostanza stupefacente, nascoste in parte all'interno di una pochette e in parte in un calzino indossato dallo straniero. Le dosi di hashish, singolarmente confezionate e pronte per la vendita, per un peso complessivo di 64 grammi. Inoltre, sono stati sequestrati anche 70 euro in banconote di vario taglio. Il secondo soggetto, invece, è stato trovato in possesso di una dose di hashish acquistata poco prima in cambio di denaro. Dopo il rinvenimento della sostanza stupefacente, lo straniero è stato accompagnato presso gli uffici del commissariato, dove sono state svolte le formalità di rito. Successivamente, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. L'operazione condotta dalla Polizia dimostra l'impegno costante nella contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, a dimostrazione che le forze dell'ordine continuano a vigilare per garantire la sicurezza dei cittadini. A Caltanissetta, sei persone sono state arrestate dalla Polizia per vari reati e condotte in carcere. La squadra mobile ha dato esecuzione a diversi provvedimenti a seguito di condanne di venute definitive emessi dall'autorità giudiziaria, traendo in arresto sei persone. Un nisseno di 49 anni, poiché riconosciuto colpevole in ordine al reato di truffa, dovrà scontare la pena della reclusione di due anni e quattro mesi. Un 56enne, invece, riconosciuto colpevole del reato di sfruttamento della prostituzione, dovrà scontare la pena di quattro anni. Gli altri quattro arrestati, tutti condannati in ordine a reati concernenti gli stupefacenti, dovranno scontare rispettivamente un 33enne, la pena di quattro anni, cinque mesi e otto giorni di reclusione, un 50enne, la pena di sette anni, un 49enne, di sei anni, sette mesi e diciotto giorni e un 34enne, la pena di quattro mesi di reclusione. Tutti gli arrestati sono stati condotti al carcere di Caltanissetta. Da Caltanissetta a Marsala, dove un 50enne è stato invece denunciato per ricettazione. Vediamo il servizio. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala hanno denunciato un pregiudicato per il reato di ricettazione sorpreso in possesso di materiale rubato. Il 50enne, già molto noto agli operanti, era stato visto in piena notte nelle vie del centro mentre portava via un borsone. I carabinieri hanno pertanto deciso di controllarlo e hanno avuto ragione. Nella borsa, infatti, secondo la ricostruzione dei militari dell'arma, l'uomo aveva un personal computer del quale non ha saputo dare spiegazioni sulla provenienza. Da una serie di accertamenti, gli inquirenti sono riusciti a risalire al proprietario. L'uomo aveva lasciato il PC in auto e qualcuno, dopo aver infranto il vetro, l'aveva rubato. Sulla base degli elementi indiziari raccolti, i carabinieri hanno deciso di denunciare il 50enne per ricettazione mentre il PC è stato restituito al legittimo proprietario che ha espresso il proprio ringraziamento all'arma dei carabinieri per aver recuperato il maltolto. Cambiamo argomento, parliamo di mercato immobiliare. A Palermo, nei primi mesi del 2023, sono aumentate le compravendite di case mentre sono diminuiti i mutui, sempre per l'acquisto di abitazioni. A Palermo, nei primi due mesi del 2023, si è registrato un aumento complessivo del 2,11% delle compravendite di abitazioni rispetto allo stesso periodo della 2022. Importante segnalare il cambiamento del trend tra il mese di gennaio e quello di febbraio. Mentre nel mese di gennaio 2023 si registra una crescita del mercato del 18,69%, a febbraio si assiste a un calo del 9,30%. A risentirne maggiormente sono state le compravendite di seconde case da imprese che registrano una diminuzione del 31,25% nel primo bimestre 2023 rispetto al primo bimestre 2022, seguite da quelle di prima casa da impresa, meno 20%, e da quelle di prima casa fra privati, meno 3,99%. Da segnalare in controtendenza il trend delle compravendite di seconde case da privati che aumenta della 14,64% nei primi due mesi del 2023 rispetto ai primi due mesi dello scorso anno. L'andamento del mercato immobiliare e dei mutui in Italia nel primo bimestre 2023 è stato reso noto dal Consiglio Nazionale del Notariato sulla base delle rilevazioni effettuate attraverso i dati statistici notarili. I mutui per l'acquisto della casa nei primi due mesi del 2023 sono diminuiti del 26,54% rispetto allo stesso periodo del 2022, Mentre a gennaio si registra un aumento del 4,25%, a febbraio il mercato dei mutui a Palermo subisce una battuta d'arresto della 49,51%. Ricordando l'aumento del mercato delle compravendite che segnava comunque a Palermo un aumento del 2,11%, la flessione del numero di mutui concessi pari almeno 26,54% evidenzia il fatto che le persone stiano acquistando case più con i propri capitali rispetto al passato a causa del forte aumento dei tassi di interesse. In calo il numero di persone fisiche che hanno contratto un mutuo meno 27,77% con un calo del 29,19% nella fascia 18-35 anni. A fronte del calo del meno 26,54% del numero dei mutui erogati si registra però un aumento del capitale medio erogato che passa dai 128,688 euro del primo bimestre 2022 ai 129,309 euro dei primi due mesi del 2023. Lo sport cresce l'attesa per la Salomon Maxi Race Etna Trail in programma a luglio. Riflettori puntati sulla Salomon Maxi Race Etna Trail, la manifestazione di trail running in programma il 29,30 luglio organizzata da Etna Trail ASD con start e arrivo da Piano Provenzana, stazione sciistica situata a quota 1800 metri sul versante nord dell'Etna. L'evento prevede quattro distanze, oltre a un mini trail per i più piccoli. Sabato 29 luglio si parte con l'Etna K1, ovvero 3,8 km per 1.032 metri di dislivello positivo. Domenica 30 luglio invece tutte le altre distanze, a partire dalla regina dell'evento la 64 km per un dislivello di 3.650 metri, con partenza alle prime luci dell'alba alle 6 del mattino. Una corsa che non si improvvisa per atleti esperti di lunghe distanze e terreni imperdi, che prevede il passaggio in grotte, su antiche colate laviche e sulla bottoniera di coni vulcanici formatisi durante l'eruzione del 1911, fino a sfiorare quota 3.000 metri, dove si trova l'osservatorio vulcanologico. Successivamente, alle 9.30, è prevista la partenza della 24 km e della walk trail di 14 km. La prima ha un dislivello di 1.300 metri e vede lo start sempre a piano provenzana, per poi salire in cima al vulcano fino all'osservatorio Etneo e quindi affrontare la discesa sul canalone quarantore, lasciandosi andare come se si stesse sciando grazie all'effetto della sabbia vulcanica vaporosa e morbida, che fa scivolare veloci al traguardo. Ci fermiamo qui, a più tardi, per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.